Il pubblico è stato quello delle grandi occasioni. Tra pioggia e nuvole, la msicora di Olbia si è giudicata la quarta edizione della remata della gioventù nelle acque calme dell'antico porto romano. Undici equipaggi provenienti da altrettante scuole della Sardegna su imbarcazioni della marina militare chiamate Lancioni. Si sono date battaglia per uno spettacolo unico che di anno in anno cresce e coinvolge sempre più spettatori. L'istituto professionale IPIAD ha subito convinto per il ritmo costante e per la sapiente tattica di gara. Gli olbiesi sono stati traghettati alla vittoria dal docente Vittorio Pette e dal timoniere Paolo Mura. 300 metri di gara a ritmi sostenuti sono lunghi e ci sono voluti allenamenti duri per raggiungere una preparazione atletica da campioni. Solo così, dividendosi tra scuola e sport, i giovani dell'IPIAD hanno potuto conseguire un meritato successo. Al secondo posto i ragazzi dell'istituto marittimo Pira di Siniscola guidati dal timoniere Angelo Tilocca, non lontani, con il fiato sul collo dei primi fino all'ultimo metro. La medaglia di bronzo è aspettata al team del liceo scientifico Mossa, il cui equipaggio ha ottenuto una prestazione di tutta rispetto che li ha portati sino alla finalissima. Da segnalare l'equipaggio della Psicora IPA di Oschiri, che è riuscito ad arrivare fino alle semifinali, dimostrando un valore che l'anno prossimo potrà essere sicuramente messo a frutto. Presenti all'importante ventolbiese, l'assessore regionale dello sport Sergio Milia e tutti i rappresentanti politici istituzionali del territorio, a conferma del valore anche sociale della manifestazione. Entusiasmante poi lo spettacolo offerto dai marinai della Guardia Costiera, che con vera passione hanno dato prova della loro perizia e difficili esercitazioni di salvamento a mare. Capitolo a parte, la competizione tra gli equipaggi delle mariscuola di La Maddalena e di Olbia, che hanno stupito per le velocità raggiunte e i tempi di percorrenza.